Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi vi porto un aggiornamento su quelle che sono le tattiche e le istruzioni del mio modulo principale, ossia il 4-4-2, quello che utilizzo praticamente sempre quando inizio la partita, salvo poi ovviamente magari mettersi male e quindi ricorrere ai ripari. Però, quello è lo schieramento di partenza al quale, vi ripeto, ho fatto un piccolo cambiamento prima del torneo che c'è stato settimana scorsa della nazionale italiana virtuale, che tra l'altro mi ha permesso di arrivare negli ultimi migliori sedici che si giocheranno, poi la possibilità di vestire la maglia azzurra, e vabbè, sarebbe un sogno incredibile, no? Come un po' il calciatore che sogna di arrivare in nazionale o di vincere la Champions, però vabbè. Questi sono altri discorsi e quindi ci tenevo a condividerle con voi. Quindi passiamo subito sulla schermata della mia squadra e vedete che è un po' un cantiere aperto, perché è vero che è arrivato Varan If al posto del base, che ormai secondo me non può circolare, fa una fatica infinita. Vedete che c'è ancora Mendy base che deve di evolvere alla versione footbird di quando prima, perché veramente non se ne può. Di questo base col quale ci ho fatto 1238 partite, insomma, ci ho lasciato un pezzo di cuore, però è arrivato il momento di andare. James ho spostato DC, col quale mi trovo veramente, veramente bene. Ovviamente il sogno sarebbe anche quello poi di evolvere Cristiano94 al Toti, però ovviamente la situazione di credit è quella che è e quindi poi devo aspettare un attimino di racimolare qualcosina in più. Ma bando alle ciance e passiamo subito alle tattiche e alle istruzioni del 4-4-2. Tattiche e istruzioni del 4-4-2 che come potete vedere, per quanto riguarda la difesa, vedono subito un cambiamento. Di fatti utilizzo equilibrato con 4 di ampiezza e in profondità invece vado a utilizzare 8. Perché 8? Perché veramente stare alti conta sempre di più secondo me. È vero che ci sono i filtranti eccetera eccetera, ma questo non vuol dire che la difesa vi sta a centrocampo. Vuol dire che quando si arriva negli ultimi metri la squadra comunque vi dà una mano nello spam della trappola del fuorigioco, come vi ho detto. E per cercare di stare alla larga da questi tunnel eccetera eccetera, secondo me è meglio andare a braccare la minaccia subito, piuttosto che schiacciarsi in porta, dove poi un rimpallo o una cosa del genere vi porta magari a subire la rete. Quindi 8 di profondità per avere uno spam più costante e più concreto della trappola del fuorigioco, piuttosto che 7 che vedevo iniziava un attimino ad arrancare. Per quanto riguarda invece lo stile di attacco abbiamo ancora equilibrato, ma in questo caso abbiamo ampiezza 6, quindi una squadra che appunto è larga ma non larghissima, perché comunque col 4-4-2 i giocatori sono piazzati in maniera tale da andare a coprire già bene il campo. Quindi andare troppo ad allargare la squadra poi andrebbe a creare delle distanze tra i reparti, no? Magari con l'esterno cercate la punta e sono troppo distanti il passaggio viene intercettato. Magari tra le due punte si vengono poi ad inserire i difensori centrali all'avversario e quindi poi non andate a fraseggiare bene, quindi 6 mi sembra il giusto compromesso. Per quanto riguarda invece giocatori in aria utilizzo 4, questo perché appunto voglio limitare quelli che sono i giocatori che si vanno a proporre in maniera automatica, ma preferisco io andare a dettare quelli che sono i tempi della manovra offensiva che per me è fondamentale gestire con appunto il ritmo adeguato, perché altrimenti vi trovate alle volte il centrocampista che si è buttato e non ci avete lo scarico, si butta dentro la punta piuttosto che venire a uscire a prendere palla, si butta dentro l'esterno invece di prendervi la larghezza del campo e aprire la difesa, quindi preferisco avere 4 per questo motivo. Angoli e punizioni di 2, ovviamente gli angoli per evitare i contropiedi, punizioni stessa cosa, anche perché le punizioni comunque fondamentalmente le tiro sempre in porta, quindi che ci sia tanta gente dentro l'area mi interessa relativamente. Ma veniamo adesso alle istruzioni, a parte che il 4-4-2 è sempre quello in linea, quindi quello con i 2 CC, questo perché secondo me vi supportano meglio anche la manovra offensiva, mentre con il 4-4-2 con i mediani ogni tanto si viene a creare una piccola spaccatura che risulta fastidiosa e secondo me la fase offensiva sotto questo punto di vista ne risente, siete un po' più coperti ma la ripartenza è un attimino più problematica. Veniamo adesso a quelle che sono le istruzioni, istruzioni che insomma vedono anche in questo caso dei piccoli aggiornamenti. Difatti abbiamo, per quanto riguarda i terzini, sempre resta dietro in attacco e su questo insomma nulla di nuovo perché chiaramente sappiamo bene che per quanto riguarda i terzini è importante in un modulo come questo che non si facciano trovare fuori posizione, altrimenti salta tutto lo schema difensivo. Per quanto riguarda Renato Sanchez, ovvero il CC di destra, abbiamo sempre resta dietro e copertura al centro. La novità invece riguarda il CC di sinistra, ovvero Bruno Fernandes. Prima di passarci voglio comunque specificare questa cosa perché non è che deve essere scientifico, ossia l'impostazione dovete metterla per forza al CC di sinistra, dovete valutare voi dove vi trova il centrocampista più tecnico, quindi in questo caso io ho Bruno a sinistra, visto che comunque se la cava meglio coi piedi preferisco mettere lui su un piede che magari non è il suo, visto che comunque ha anche 4 di piede debole e l'impostazione che vado a mettere è attacco equilibrato, quindi non gli metto resta dietro in attacco. Questo che cosa consente di fare? Consente appunto a Bruno di potersi sganciare dal blocco della linea mediana con maggiore regolarità e questo raga l'ho trovato di fondamentale importanza soprattutto in quelle che sono le partite un po' bloccate dove appunto mancano alle volte nel 4-4-2 la figura di riferimento del CC, si ritrova praticamente Bruno in quella posizione da un supporto alla manovra offensiva incredibile, infatti dopo vi faccio vedere le statistiche di Bruno e praticamente spariglia un po' le carte, è utile anche contro i 5-3-2 quando alle volte addirittura gli metto avanza per rompere ancora più le scatole perché ovviamente è un giocatore in più che si aggiunge alla manovra offensiva che conta già 4 giocatori due esterni e le due punte e quindi è molto molto utile secondo me. Quindi diciamo che mettere attacco equilibrato a quello che è il giocatore del 4-4-2 nel cerchio di centrocampo che ovviamente è maggiormente in grado di poter attaccare, insomma. Per quanto riguarda i due esterni invece Neymar e Kuluseski, io sapete che non amo andare a piazzare istruzioni quindi lascio sempre tutto quanto su base, ci sono scuole di pensiero su rientra in difesa, accorcia, taglia dentro, no, bullshit non le vado a mettere io, preferisco schiacciare l'L1 se mi devono partì, preferisco schiacciare l'R1 se mi devono accorcià insomma, preferisco così. Per quanto riguarda le due punte sto utilizzando sempre inseriscili alle spalle ma, 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 ma sto riscoprendo anche ogni tanto la bellezza di quello che è il fai salire la squadra che era tanto caro a me l'anno scorso. Cosa succede con fai salire la squadra? Il giocatore praticamente viene fuori l'area di rigore e quindi questo ti permette di poter scambiare meglio tra le due punte solo che quest'anno, insomma, sapete come sia anche più importante sfruttare la profondità con i filtranti allora potrete dire, sì, ok, però magari te lo fai scattato tu con L1, no, perché non è la stessa cosa con fai salire la squadra il giocatore ti sta parecchio più dietro e alle volte magari invece di aggredirti lo spazio lo vedete là che sta un attivino imbambolato perché gli dovete arrivare voi vicino, lui deve venire fuori insomma dovete poi andare a fraseggiare. Quindi al momento lascio sempre inserisciti alle spalle ma occhio a questo rimani, a questo fai salire la squadra che anche qui in questo caso con le difese bloccate con quelli che difendono con la CPU eccetera eccetera può essere un asso che voi cacciate fuori dal cilindro dalla manica, scusatemi, quello è il coniglio per poter andare a dare fastidio vi voglio far vedere quelle che sono le statistiche di Bruno per farvi vedere appunto come ha giovato di questa sua nuova posizione. Vedete, 91 gol, 174 assist che si sono venuti ad accumulare in 362 partite quindi praticamente una media di un assist ogni due partite è una media di un gol ogni quattro quindi veramente tanta tanta roba visto che appunto è un giocatore eclettico che può fare sia la fase difensiva che quella offensiva praticamente con la stessa intensità. Raga, per quanto riguarda dunque questo aggiornamento tattiche fondamentalmente è tutto fatemi sapere che ne pensate nei commenti, lasciate un like mi raccomando, iscrivetevi al canale vi ricordo di seguire in descrizione tutte le info per quelle che sono i live giornaliere sulla piattaforma una piota raga, io vi auguro una buona giornata, un salutone al vostro Riberoski e alla prossima grazie, ciao